ok ciao amici NAC buongiorno un video veramente speciale oggi sono qui nel campo golf del club lugolino anzi ringrazio Federico Adassu che mi ha dato questa possibilità e ringrazio tutto lo staff è un luogo fantastico meraviglioso adesso con il nostro Mavic Mini 2 faremo delle immagini spero spettacolari iniziamo subito sigla e quindi eccolo qua il Mavic Mini 2 a favore di telecamera leviamo la protezione del gimbal accendiamo il radiocomando accendiamo il telefonino accendiamo lui non ho molto tempo perché fra poco ci sarà una gara quindi faremo una rapidissima prova di volo ma tanto mi aspetto il solito standard DJI quindi mi aspetto la solita qualità della DJI sul controllo del volo ma comunque faremo una prova per sicurezza e dopo vediamo le immagini vediamo finalmente questo 4k se veramente è come dicono tutte le recensioni ho visto fino ad essere un fantastico 4k quindi accendiamolo e mettiamolo subito in volo e rendiamoci conto intanto di come vola chiediamo fuori il nostro radiocomando l'abbiamo visto nell'unboxing quindi praticamente identico a quello del Mavic Air quindi il Mavic Air 2 che conosciamo che abbiamo visto nel recente unboxing quindi andiamo direttamente a alloggiare i nostri stick prendiamo il telefonino lo sistemiamo qui quindi ci posizioniamo qui noi inquadriamo il codice per ovvi motivi accendiamo come sempre vi ho detto prima il radiocomando colleghiamo il drone eccolo qua ci ha riconosciuti non perdiamo altro tempo andiamo in decollo lo mettiamo subito a favore di la nostra telecamera non so se vedete la meraviglia del posto in cui siamo stati ospitati fantastico facciamo i primi movimenti amici di un arco i soliti movimenti che conosciamo siamo abituati a fare quindi alziamo andiamo avanti conosciamo bene i nostri comandi quindi solito motore salita e discesa facciamo roll sinistro roll destro è stabile c'è un po di vento oggi quindi i primi comandi ci rendiamo subito conto che il drone ha lo standard dji che conosciamo insomma non è una sorpresa però è sempre bene verificarlo vediamo una piccola parabola in avanti scusate non è una parabola ecco un piccolissimo come dire cedimento in discesa cioè appena si fa la diagonale quando lo si ferma vediamo un po leggerissimo ma quasi impercettibile però avete notato no la rifacciamo a favore di telecamera in diagonale verso l'altra facciamo lenta ecco ci fermiamo quando ci fermiamo c'è un leggerissimo però insomma per come dire peccato veniale niente di drammatico facciamo adesso una una piccolissima rotazione magari ci alziamo non usciamo di inquadratura per favore vediamo un po spero si veda si messo in quadratura larga apposta portiamolo indietro beh la risposta è la risposta che ci aspettiamo dalla dj ai amici di donac quindi la risposta assolutamente perfetta stabile è un drone dj ai in tutto e per tutto ma adesso 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 arriva il bello amici di donac perché abbiamo fatto siamo in modalità lo vedete normale proviamolo un attimo in modalità sport a vedete come è cattivello aggressivo può raggiungere se ho letto bene 68 km orari è comunque una velocità più che da guardevole beh senz'altro modalità sport è particolarmente divertente attiviamo una velocità cinematografica durante la quale dovrebbe come dire avere una lentezza superiore proprio per consentire un'ottimizzazione delle riprese in effetti e sto facendo un cerchio e anche se sono gli stick quasi completamente attivati lui procede molto lentamente mai in questo modo possiamo anche vedere la distanza naturalmente siamo in campagna aperta petto di segnale non ce ne aspettiamo così che dovrebbe viaggiare alla grande già quasi non lo vediamo più ecco abbassiamo un attimo il gimbo la risposta è ovviamente fantastica non vedo nessun problema né di lag né di problemi di ritorno del segnale lo stiamo riportando a retromarcia per così dire verso di noi ci allontaniamo dalla strada eccolo qui è sopra di noi beh amici non è che dire è un drone dj ai si comanda con una facilità impressionante diciamo la ripresa diciamo di effetto così controlliamo anche la sua capacità di pensato un po di vento lo sentite forse nel microfono ecco adesso lo alziamo poi monte d'ospedio stasera il video perché ho dei problemi ho installato big sur nuovo lo sistema operativo e mi da dei problemi su final cut vedremo di risolverli ci alziamo siamo adesso a 14 15 metri di altezza la visibilità è buona insomma considerando che sufficientemente lontano la visibilità è veramente discreta ci alziamo ancora diciamo ancora riesco a vederlo siamo in pieno sole credo che in una giornata un po più scura sarà un problema comunque lo portiamo una certa altezza meraviglioso stiamo vedendo praticamente tutto il golf club lugolino adesso adesso è dato un piccolo segnale di di lag ma piccolo scatto quando ha iniziato la anche adesso ancora diciamo siamo a 240 metri di distanza la percentuale di volo 77 per cento stiamo volando da 15 minuti così almeno ci dice beh perfetto direi amici di una che che vi devo dire almeno ritorno qui è fantastico alziamo così vedremo anche il rumore che darà questa telecamera questo nuovo sistema dell'ottica della dj i mavic mini 2 ecco noi siamo laggiù in fondo e quindi lo portiamo verso di noi scendendo lentamente a questo punto ultimo sperimento che andiamo a fare ovviamente e si è lui il detto tu home che questo tasto riconosciamo tutti e vediamo come come lui ritorna verso di noi ritorno teniamo premuto vedete a questo punto lui attiva il ritorno automatico e vediamo se effettivamente funziona bene come ci auguriamo anche perché se non funzionasse bene sarebbe un vero problema eccolo qui è sopra la nostra testa eccolo qui amici accanto a noi lo vedete c'è vento però lui ancora risponde bene quindi come dire prova superata lo facciamo atterrare bene tutto funziona ora dopo faremo le applicazioni speciali oggi non ho tempo per fare questo quello che volevo fare con voi subito ce lo portiamo qui a favore era finalmente vediamo le applicazioni video quindi qui ci abbiamo attiviamo come dire la nostra macchina fotografica scattiamo una foto ci posizioniamo più in alto e adesso andiamo qui ovviamente possiamo vedere nell'applicazione quello che abbiamo appena fatto adesso andiamo in video attiviamo il 4k e lo mettiamo a 25 frame al secondo e signori miei niente partiamo ci faremo un bel video di questa buca la buca credo numero 13 del golf club lugolino ciao a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Volo fantasticamente, è ovvio, è un DJI, lo conosciamo, non c'è bisogno di presentazioni e ovviamente fa cose veramente sempre di alta qualità. Le riprese video non lo so, penso siano belle, adesso le vedrò, le monterò, le commenteremo insieme. C'è molto vento, speriamo che mi nomi cada la telecamera. Che dire, prova superata? Certamente sì, vola alla grande, è stabile, è come sempre un DJI. Mi sembra che siamo un po' sovraesposti, ma non importa. Mi spiace, non siamo al topo di qualità, ma oggi è stato un video un po' di corsa. Vi ringrazio, subite il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina qui sotto, se volete rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo la settimana prossima, monto dal video e poi mi direte voi cosa ne pensate. Ciao da DroneArk!